Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo insieme i titoli di questa edizione del telegiornale Coppia di badanti arrestata dai carabinieri a Marotta Tenevano chiusa in casa un'anziana signora di 78 anni In 10 anni le hanno sottratto mezzo milione di euro Continua a essere basso il numero dei contagi Nella provincia pesarese rispetto al resto della regione Si svolgeranno domani nella Basilica di San Paterniano a Fano I funerali di padre Damiano Angelelli Capuccino più anziano delle Marche, morto all'età di 101 anni E' tra le banche dati più grandi e frequentate in assoluto dalla provincia Raccoglie informazioni su tutto il territorio dal 1997 Ma per il sito della Valle del Metauro finora nessun riconoscimento Nemmeno dagli stati generali del turismo Passa la carovana del Giro d'Italia con le bici elettriche Attenzione a strade e scuole chiuse Al Codma di Rosciano a Fano torna l'open day della protezione civile Un appuntamento per coloro che vogliono entrare nell'associazione dei volontari del Cibi Club Matteo Dopo il telegiornale una nuova puntata di Missione Salute Si parlerà del disturbo respiratorio notturno con il dottor Gino Latini A seguire in diretta Primo Cittadino con il sindaco di Fano, Massimo Seri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia, i carabinieri di Marotta hanno fermato due badanti Una coppia di coniugi che avevano segregato in casa un'anziana di 78 anni Per sottrarle la pensione La donna che veniva controllata con una videocamera Ha subito aggressioni sia fisiche che psicologiche Chiusa in casa, sorvegliata e maltrattata Sono stati anni da incubo quelli vissuti da un'anziana di 78 anni Residente a Marotta Che anziché essere aiutata dai due badanti, marito e moglie Ha subito continue aggressioni La coppia che avrebbe dovuto prendersi cura della signora Ha fatto in modo che la donna non avesse contatti con parenti e conoscenti L'obiettivo era quello di prelevarle la pensione Grazie ad una delega ricevuta dall'uomo, un sessantenne Che poteva compiere anche altri atti ai danni del patrimonio dell'anziana In totale, negli ultimi dieci anni Le avrebbero sottratto mezzo milione di euro Poi, finalmente, grazie alla segnalazione di un privato cittadino Arrivata ai carabinieri di Marotta I militari hanno dato il via alle indagini In particolare, i primi testimoni Hanno raccontato di presunti abusi subiti dalla vittima Che da tempo sarebbe stata segregata e controllata mediante una videocamera A peggiorare il quadro, anche le aggressioni sia fisiche che morali Per evitare che avesse dei rapporti con i familiari Al termine dell'attività d'indagine I badanti marottesi sono stati denunciati E i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare Dell'allontanamento e di vieto di avvicinamento alla donna Ad una distanza inferiore ai 200 metri Il provvedimento è stato emesso dal giudice Per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro Su richiesta della Procura della Repubblica Dovranno rispondere dei reati di circonvenzione di incapace in concorso E di maltrattamenti aggravati Si svolgeranno domani nella Basilica di San Paterniano A Fano i funerali di padre Damiano Angelelli Cappuccino più anziano delle Marche Che se ne è andato a 101 anni Ho vissuto così come un semplice frate Come se poteva vivere Ho dato un buon esempio Se l'ho dato E poi come mi hanno visto E così ho vissuto Non ho fatto nulla di eccezionale Ci aveva puntualizzato padre Damiano Angelelli Nel giorno del suo centesimo compleanno E invece chi l'ha conosciuto Sa bene che il frate ha vissuto tutta la vita a servizio del prossimo Una persona umile, precisa e ironica Così lo descrive chi gli stava accanto Padre Damiano dopo 74 anni Aveva lasciato nel giugno scorso il convento di San Paterniano Si era trasferito nella comunità dei frati Cappuccini di Macerata Che accoglie i frati anziani delle Marche E proprio qui, l'altra notte, si è spento Ed è tornato alla casa del padre Nato a Cingole il primo marzo 1919 Iniziò il suo percorso da uomo di chiesa nel 1931 Nel 44 fu ordinato sacerdote ad Ascoli Piceno Nel bel mezzo della guerra mondiale Due anni dopo arrivò nella basilica di San Paterniano E iniziò il servizio come custode del cimitero centrale Fino all'84 E come cappellano fino al 2016 Fu il promotore della tombola di San Paterniano Ma anche di gite e pellegrinaggi Sette anni fa festeggiò il suo settantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale Ed era il frate Cappuccino più anziano della regione In questa foto, scattata nel marzo del 67 Al funerale del Vescovo di Fano Monsignor Vincenzo del Signore Padre Damiano aveva 48 anni Al suo fianco il Vescovo Costanzo Micci, Gustavo Roberti E il sindaco di allora Rino Giovannetti Invece, durante la cerimonia organizzata lo scorso anno In occasione dei suoi 100 anni Padre Franco Nardi, superiore di San Paterniano Lo aveva definito un uomo lucido e indipendente Un esempio di costanza e perseveranza Nella sua vocazione religiosa La serenità La gioia che traspare dal suo volto Nelle piccole cose quotidiane Lui ha portato sempre avanti il suo lavoro Per parecchio tempo Adesso di preciso non lo so neanche Come cappellano e custode del cimitero Un servizio veramente prezioso attraverso il quale è incontrato È venuto a contatto con tante famiglie e tante persone Non solo quelle legate ai defunti Ma anche altre persone Quindi tutto Fano Praticamente possiamo dire che conosce Padre Damiano Chi dice Padre Damiano Sa benissimo chi è E la città domani si stringerà per l'ultimo saluto al frate Cappuccino Le eseque verranno celebrate agli ore 11 Nella basilica di San Paterniano Al termine del rito funebre Padre Damiano verrà sepolto proprio nel cimitero centrale A ricordarlo oggi è stato anche il primo cittadino Massimo Seri Era una persona calma, riflessiva, disponibile e garbata Ha detto il sindaco Si faceva amare perché trattava tutte le cose Compresa la morte Con una leggerezza tale Che quasi si rimaneva increduli Una leggerezza, ha proseguito Seri Che non era superficialità Ma che significava totale affidamento a Dio Al di là della fede Che è un dono di cui non tutti sappiamo farne buon uso L'insegnamento di Damiano È quello di vivere la vita con umiltà Stupore e gratitudine Facendo di ogni gesto quotidiano Un piccolo grande miracolo Dopo i 108 contagi da coronavirus Registrati ieri nelle Marche Nelle ultime 24 ore Se ne sono rilevati 37 su oltre 460 tamponi 21 in provincia di Ancona 7 nel Fermano 5 in quella di Macerata 2 in provincia di Ascoli Piceno E 2 in quella di Pesero Urbino Questi casi comprendono contatti In diversi ambienti Domestico, lavorativo, scolastico e sanitario Oltre ad un rientro dalla Tunisia E a due contatti nei luoghi del divertimento Invece i ricoveri negli ospedali delle Marche Sono saliti a 55 Mentre i pazienti in terapia intensiva Sono scesi da 6 a 5 Di cui 3 ad Ancona E 2 a San Benedetto del Tronto Un'enorme quantità di dati Quasi mille visitatori giornalieri E nessun riconoscimento Nei finanziamenti Stiamo parlando di un sito internet Che è la Valle del Metauro Che è gestito dall'Associazione Argonauta di Fano C'è una fase di costruzione È nata nel 1997 E da quasi 24 anni Raccoglie informazioni sul nostro territorio È la banca dati Valle del Metauro Il cui sito è www.lavalledelmetauro.org Ed è la più frequentata al mondo In materia di funghi Ma che raccoglie ed offre informazioni Che spaziano dagli aspetti naturali Come flora e fauna A quelli antropici Come feste e tradizioni Ideata e realizzata Dall'Associazione Naturalistica Argonauta E di proprietà in parte del Comune di Fano Oggi però la banca dati Non gode del giusto riconoscimento dovuto Per un così ampio lavoro fatto peraltro Su base volontaria Un riconoscimento non ottenuto nemmeno Dagli Stati Generali del Turismo Io sono molto deluso Per la mancata considerazione Di un lavoro immenso Che da 23 anni facciamo come Associazione Argonauta La necessità di stare insieme Tra i comuni del territorio Della valorizzazione del patrimonio Per esempio la Basilica di Vitruvio Per esempio la Città dei Bambini Per esempio altre cose come la Romanità eccetera Però nonostante tutto Quello che già esiste nella banca dati Non viene preso in considerazione Quindi sono molto demotivato E non so se continuerò a occuparmene Una quantità enorme di dati Che si aggira attorno a 40.000 Tra immagini e schede E che vede ogni giorno Fino a mille visitatori Dovrebbe essere aggiornata In maniera continua Ma da due anni a questa parte Va a rilento A causa della mancanza Di un gruppo di lavoro fisso Consultata da università Scuole e professionisti Inoltre Non sempre viene citata come fonte Tra i progetti futuri Necessari per la vita della banca dati L'espansione ai social Ed il coinvolgimento Di fondi e finanziamenti Richiesti alla pubblica amministrazione attuale Oltre alla realizzazione Di un database e sito A cui si accede con un banner Dalla banca dati e viceversa Non siamo molto citati come fonte Perché conviene sempre al professionista Dire che il dato l'ha trovato lui E attualmente cosa succede? Ci succede che ci sono delle repliche Porto per esempio il Montefeltro Dove hanno fatto la banca dati Che è una fotocopia di questa Che ha pochissimi contenuti Moltissime strutture turistiche Alberghiere, ristoranti eccetera Questo va benissimo Cosa che avevamo proposto anche noi Ma come una struttura a parte Da cui si accede anche dalla banca dati La cultura, i dati tecnici Con il turismo in un minestrone Diciamo che non renderebbe Sarebbe un enorme spreco di denaro pubblico Adesso una breve di politica Perché domani a Roma Si potrebbe definire la composizione Della nuova giunta regionale delle Marche Guidata dal governatore Francesco Acquaroli L'occasione è la presenza in contemporanea Dei vari commissari dei partiti Della maggioranza di centrodestra Per i lavori parlamentari Allora Acquaroli illustrerà Lo schema del futuro esecutivo regionale L'ufficializzazione potrebbe essere immediata Oppure slittare ai giorni successivi Partirà da piazza dell'unificazione a Marotta La decima tappa del Giro d'Italia in bici elettrica Che si svolgerà mercoledì prossimo Per un percorso di oltre 100 km È organizzato da RCS Sport È inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana E si svolgerà sulle stesse strade del Giro d'Italia Utilizzando esclusivamente biciclette a pedalata assistita Partirà mercoledì alle 11.30 Da piazza dell'unificazione a Marotta La decima tappa del Giro E Che si concluderà dopo 101 km Nel comune di Rimini L'evento cicloturistico è stato presentato Nei giorni scorsi nella sala consigliare di Mondolfo Dal sindaco Nicola Barbieri Una grande opportunità di visibilità a livello nazionale Per Mondolfo e Marotta Ed è un evento importante Che unisce mobilità sostenibile Turismo e sport Che sono tutti i temi che abbiamo affrontato in questi anni Come amministrazione comunale Per renderla sempre La nostra città sempre più accogliente Per migliorarla sempre di più E quindi siamo davvero soddisfatti Di essere riusciti a portare la partenza del Giro E I ciclisti percorreranno il nuovo lungomare Dove da poco è stata realizzata la ciclovia adriatica Ma nello stesso giorno passerà a Marotta Anche la tappa del Giro d'Italia Porto Sant'Elpidio Rimini Per l'occasione rimarranno chiuse Le scuole dell'infanzia elementare e medie Dell'istituto comprensivo FAA di Bruno E' annullato il mercato di Viale Carducci E la viabilità potrà subire rallentamenti Come lungo la statale 16 che verrà chiusa al traffico Dalle ore 11 alle 15 circa Invece sul lungomare da via Parini fino al confine Con Ponte Sasso La chiusura potrebbe scattare già alle 8.30 In questi anni la nostra amministrazione Ha cercato sempre di organizzare Eventi sportivi Di unirli al turismo Proprio per creare questo connubio Tra turismo e sport Per non dimenticare abbiamo organizzato Il mondial di beach soccer Abbiamo organizzato il torneo di disabili di hockey Che ha portato tante squadre da tutta Italia E adesso andiamo a organizzare questa e-bike experience E in poche parole questo giro di bici elettriche Che partirà dal nostro comune Ad esprimere soddisfazione anche Alberto Paccapelo Del Conimarche Le associazioni del territorio E l'assessore al turismo Davide Caporaletti E' un altro evento importante per noi Sicuramente uno dei più importanti per la stagione Per una stagione che come ho detto Non vuole assolutamente finire Siamo assolutamente nel clima del giro E Ovviamente del giro d'Italia appena iniziato Anche a Fanno la statale rimarrà chiusa nello stesso orario Le scuole dell'infanzia e quelle a tempo pieno Resteranno regolarmente aperte Mentre le elementari e le medie Che hanno diretta ricaduta sulla viabilità interdetta Saranno chiuse Ad esclusione dell'istituto comprensivo Nuti E della direzione didattica Sant'Urso Invece per gli istituti superiori Che sono di competenza della provincia La polizia locale ha informato i dirigenti Che a loro volta dovranno avvisare le famiglie Essendo tutti a ridosso della statale Fatta eccezione per la scuola d'arte a San Lazzaro E' presumibile che restino chiusi O facciano orario ridotto E domani sera al Codma di Rosciano ci sarà l'open day della protezione civile Il CB Club Mattei darà la possibilità a chi non vorrà Di vedere gli ambienti Di ascoltare i responsabili E di eventualmente decidere di entrare E farne parte Domani sera open day Lo facciamo tutti gli anni Ma quest'anno in modo particolare Perché durante la pandemia Sono veramente tante le persone Che hanno chiesto di poter far parte Della protezione civile per dare una mano Purtroppo non è possibile Dall'oggi al domani Senza un corso particolare Soprattutto il corso sulla sicurezza Che è tenuto dalla regione Marche Quindi non è stato possibile Far operare tutte quelle persone Che avrebbero voluto intervenire Per darci una mano Questa è l'occasione In particolare Per chi vuole avvicinarsi Al mondo del volontariato Perché domani sera Martedì alle ore 21 Presso il Codma Vediamo se siamo Se siamo pochi Una ventina Abbiamo la sala da 60 posti Quindi saremo ben distanziati Se saremo di più Abbiamo la sala da 160 posti Quindi vediamo domani sera Per mantenere tutte quelle distanze Di sicurezza che ci sono Che sono d'obbligo In pratica abbiamo due sale Che permettono questo Non solo volontariato Naturalmente visto in questo senso Perché la protezione civile Ha segreteria, cucina, logistica Un po' tutto Si abbraccia tutto in protezione civile La cinofilia ad esempio Chi ha un cane, un conduttore Oppure chi vuole in pratica fare Uscire con i cani Il figurante Cioè la protezione civile Abbraccia il tutto Le due cose che noi Non abbiamo al nostro interno Sono la sanità Perché c'è la Croce Rossa L'antincendio Perché c'è un'altra bella associazione Che è Mondavio Sul resto dove necessita In pratica siamo Siamo aperti su questo settore A ricevere tutti i volontari Naturalmente il numero non è indefinito Cioè non è tranquillo Però in questo momento Siamo in grado Perlomeno di farli partecipare a un corso E questa sera trasmetteremo L'ultima puntata di Missione Salute Il dottor Gino Latini Ci parlerà del disturbo respiratorio notturno Allora sentiamo un breve strato Di questa intervista Per disturbo respiratorio notturno Intendiamo una gamma di situazioni In cui c'è un'alterazione della respirazione Durante la notte Il più comune fra questi È quello spettro di eventi Che va da russamento Ossia il rumore causato dalla vibrazione Della parete faringea Fino al blocco completo e transitorio Della respirazione Dovuta al collasso dell'alta via respiratoria Che chiamiamo apnea ostruttiva Quando questi eventi Non sono occasionali Ma si susseguono in maniera subcontinua Durante il sonno Si configurano due condizioni Che chiamiamo roncopatia In caso sia presente solo russamento Oppure sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno Osa o Osas In caso siano presenti apnea subcontinua Nel tempo Pazienti che sono stati russatori Possono sviluppare In un progressivo divenire Una sindrome dell'apnea ostruttiva E prima di salutarci Apriamo l'album di famiglia di Fano TV Andiamo a fare gli auguri A Lauretta e Gianfranco Che ieri a San Cesario Vicino Fano Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Li vediamo in questa foto Che li ritrae vicini Ad un'auto d'epoca Addobbata per le nozze d'oro E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale Vi ricordo appunto subito dopo Missione Salute E poi in diretta il sindaco di Fano Massimo Seri Al quale come sempre potrete fare domande E richieste ai numeri che ben conoscete Noi ci vediamo invece domani mattina Alle 7 puntuali per la Rassegna Stampa Occhio e Giornale Arrivederci Grazie